Questo è un grattevinci, si possono vincere fino a 200.000 euro, ma i premi sono ancora disponibili oppure sono già stati vinti? In Italia esistono 46 tipi di grattevinci cartacei, con prezzi che vanno da 1 a 20 euro. Dietro ogni grattevinci c'è una tabella che indica i premi che si possono vincere. Sempre sul retro del tagliando sono riportate delle informazioni sulle probabilità di vincita, oltre a degli avvisi sulle dipendenze da gioco. Per vedere quanti tagliandi vincenti sono stati messi sul mercato per questo tipo di grattevinci bisogna andare sul sito dei monopoli di Stato. Qui si vengono a sapere alcune informazioni che non sono riportate sul tagliando cartaceo. Di questo grattevinci ne sono stati stampati 36 milioni, ma in circolazione sono 6 i biglietti con il premio massimo da 200.000 euro, 36 i biglietti con il premio da 10.000 euro, 1.500 biglietti con il premio da 400 euro e via dicendo. Ma come faccio a sapere se uno dei tagliandi vincenti, per esempio quello da 200.000 euro, è già stato vinto, riducendo quindi le mie probabilità di vincita con questo tagliando? Il tagliando che ho acquistato è in commercio dal 2014 e per esempio tutti i 6 tagliandi con il premio da 200.000 euro potrebbero essere già stati vinti. Per vedere se i premi del grattevinci sono già stati incassati o controllati sul sito del concessionario, senza però trovare nessuna informazione, solo informazioni sulle probabilità di vincita. Sul sito del concessionario è inoltre difficile trovare dei riferimenti diretti a cui rivolgersi per avere informazioni. Dopo alcune ricerche su internet trovo il numero verde del grattevinci online. Come faccio a sapere se un premio di un grattevinci è già stato vinto? Si deve ricare preso dove l'ho giocato signore. Però lì mi possono dire se è già uscito il premio più grande? Si signore, anche perché noi non facciamo assistenza per questa cosa qua, non facciamo assistenza per i grattevinci. Eh ma come faccio a saperlo? Perché io ho preso il ***. Si deve ricare preso dove l'ho giocato. E lì me lo dicono? Si, si. Mi dicono se ho vinto, cioè se ci sono dei premi disponibili ancora? Si. Su indicazioni del call center vado al punto vendita. Cioè per sapere se un grattevinci è già uscito il premio? Nessuno può dire che è uscito il premio. Eh però tipo... Cioè nessuno può dire che è uscito il premio, potrebbe essere quello di nessuno o no. Ah non si sanno quindi i biglietti già usciti? No, l'automatica l'incasca, potrebbe essere da un anno o da un mese. Se uno prende un grattevinci, sa se è già uscito un biglietto di quelli di vincente oppure no. Come avete potuto vedere, prendere un grattevinci è molto semplice, anche se non c'è trasparenza sulle vincite già avvenute. Come avete potuto vedere, prendere un grattevinci è molto semplice.